Sono 38.000 gli studenti teramani che rientrano a scuola dopo le festività natalizie. Perplessità e timori vengono espressi apertamente da molti dirigenti scolastici che avrebbero preferito una riapertura posticipata, visto l'alto numero di allunni positivi, ma anche per l'assenza del personale, in parte malato o in quarantena. Intanto si sono appena concluse le tre giornate di screening alla popolazione scolastica teramana, promosse dalla Regione Abruzzo e organizzate dal Comune di Teramo. Le operazioni si sono svolte al Palace Capriano, nelle palestre delle scuole medie Giovanni XXIII di San Nicolò a Tordino e Molinari di Teramo. I tamponi totali effettuati sono stati 5.115, di cui 116 casi positivi, pari al 2,26% dei test eseguiti. L'affluenza registrata è stata del 66% della popolazione scolastica, attesa secondo il calendario concertato con le dirigenti scolastiche. Dei 116 casi positivi, 30 frequentano la scuola primaria, 18 le medie, 68 le superiori. Nell'ambito dello screening sulla popolazione scolastica, in Abruzzo nel fine settimana, complessivamente sono stati eseguiti 93.328 test antigenici. I positivi relativi sono stati 2.356, pari al 2,5%. L'adesione invece è stata del 60%. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, anche a nome del Lanci Abruzzo, di cui è presidente, ha espresso un sentito e caloroso ringraziamento a quei medici di medicina generale, agli operatori sanitari, ai volontari delle associazioni di protezione civile, ai dipendenti comunali che si sono resi disponibili, ed hanno reso possibile l'effettuazione dei tamponi, mostrando altissimo senso civico al servizio della collettività. L'impegno dei comuni è risultato essere un elemento decisivo per la riuscita dell'iniziativa.